Siamo a Manopello, ma è come essere lì, davanti alle miniere del Boadio Casier, a Marsinelle, dove esattamente 67 anni fa, alle 8 e 10, fuoco e fumo tolsero il respiro e la vita a 262 lavoratori, dei quali 136 italiani, 60 gli abruzzesi, 23 di Manopello e gli altri di Letto Manopello, Turi Valignani, Farindola. Gente che il Belgio lo aveva raggiunto lasciando al paese legami e affetti familiari, emigrati in cerca di fortuna, che per i poveracci si traduce con lavoro, come tanti, come oggi. 67 anni dopo, a Manopello e a Marsinelle, si rinnova il doveroso ricordo di quella tragedia. In contemporanea, la campana accompagna il nome delle vittime, scandito con chiarezza nella piazza affollata. Ci avviciniamo a quello che è l'importante anniversario, al settantesimo anniversario, ma l'8 agosto è sempre importante, al di là di quello che è il numero dell'anniversario, perché troppe vite sono state perse all'interno di quella miniera e quindi un grande contributo l'Italia ha dato nel patto uomo carbone, ma anche un grande contributo in termini proprio di sacrificio umano. Un momento congiunto, quello della lettura dei nomi delle 262 vittime. Sì, ogni anno noi cerchiamo di fare questo, di trattenere un'importante parte dell'amministrazione comunale a Manopello, ma poi il sindaco cerca di andare sempre in Belgio a ricordare chiaramente Marsinelle, tutti i minatori e soprattutto i minatori di Manopello. Mio marito, sai che diceva? Quando tornava da lavorare, si sedeva a tavola, non ce la faceva, manca a mangiare. Diceva, oggi sono sfinito. A pancia in giù doveva camminare, che sotto, a 1035 metri scendeva. A pancia in giù e doveva arrivare. Oltre a due chilometri camminava per andare a fare il carbone. Lei che cosa ricorda di quel giorno, di quel cancello? Una cosa tremenda, signor, non possa succedere mai più, mai, 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 mai al mondo. Una cosa brutta, cancelli chiuse, ambulanze che ogni tanto uscivano e ci dicevano che portavano in ferite all'ospedale. Quello portavano già i morti a una chiesa vicino. Le pietre che uscivano, quando scoppiava sotto, scoppiava il grisù che scoppiava, quello che dicevano, uscivano le pietre fuori. Noi sa come eravamo? Come i carbonari, le vanitate nere, la polvere, la cenere. Il sindaco di Manopello è a Marsinel, proprio con il gonfalone della regione. Quindi un modo per la regione di essere vicino anche alle vittime e ai sopravvissuti di questa storia. Ma non può essere altrimenti. La storia delle emigrazioni l'abbiamo vissuta sulla nostra pelle. Anche la mia famiglia è sparsa in diversi continenti. Il fratello di mia madre, il fratello di mio padre, i fratelli di mio nonni. È un dolore che ci si porta dietro. Ho potuto percepire, sentire da piccolo che il dolore portasse nel cuore mia madre per non aver più visto un fratello che amava tantissimo e che stava dall'altro capo del mondo, in Australia, e che avrà visto sì e no due o tre volte nella vita quando un viaggio gli permetteva di riabbracciarsi. Quindi coltivare questi sentimenti e questa memoria è molto importante. Sicuramente le tragedie sul lavoro purtroppo si ripetono, anche se non in quella intensità. Ci è voluta quella tragedia per far aprire gli occhi sulle condizioni di lavoro dei nostri minatori in Belgio. Io ringrazio anche i pochi testimoni e sopravvissuti dell'epoca che vincendo il dolore che ancora portano nel cuore stanno qui insieme a noi a condividere questa esperienza e queste emozioni perché possano continuare a vivere nel futuro e a darci ancora un insegnamento.